Una volta opportunamente trattato il supporto con Nova Primer in tinta, applicare d'une in una o due mani con rullo a pelo corto sino a copertura totale della superficie. A totale essicazione applicare un successivo strato di dune con la stessa metodologia, lavorare in piccole porzioni di circa un metro e lisciare in movimenti circolari con spatola inox o di plastica. Prima dell'essicazione ripassare con movimenti circolari o a piacere sino a creare l'effetto voluto.